Le Siciliane è un libro che è una guida al paesaggio umano, femminile, in questo caso, del come si direi donna in Sicilia ieri e anche oggi. L'immagine della donna nella Sicilia è sempre spesso stata stereotipata, era l'immagine della donna in nero, era l'immagine di Claudia Cardinale nel film i soliti noti, Camerina Recomponiti, che diceva Tiberio Morto. L'idea è l'immagine di una donna sottomessa, di una donna vittima di una serie di conformismi sociali, di maschilismi ed emarginata. Parla di un conflitto, che parla di una contraddizione, di qualche cosa che si muove dentro il mondo femminile. Qualcuno ha detto come si può essere siciliani, è evidente che se erano stati donne in Sicilia non si è stati con maggiore difficoltà. Il tentativo attraverso queste biografie di personaggi reali, storici, letterari, o solo anche la storia di una santa come Santa Rosaria, riguarda una realtà molto più complessa di quella che invece lo stereotipo cinematografico letterario ci ha consegnato, raccontando che le donne in Sicilia hanno spesso lottato, combattuto per disegnare se stesse e per creare una personalità individuale e collettiva che fosse maggiore, più ampia e più articolata di quelle che certi modelli invece consegnano. Grazie. 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 Grazie.